Allora, io le illustrei la mia classe, Giorgio Power Carandrelli, e lei mi dice cosa ne pensa. Sì, mi dica un secondo perché la devo costruire pure io, la mia classe. Cudo antisommossa, seguito da Katana, seguito da Double Time, temperato e amplificato. Allora, io scudo da combattimento perché sembra più grosso, tra l'altro. Questo nome copre di più. Qual è quello da combattimento? Eh, a me sembra di più. Io sei il pentino rifornimento, è il terzo perk, oddio, sicuro, forse tracciante, sicuro. Ma quindi noi anche all'inizio non possiamo, non possiamo fare mai, non possiamo fare male, dobbiamo andare a capire, dobbiamo andare a camperare. No, vabbè, il Gulag, cioè sì. No, no, no. Come fa il Gulag? Ah, solo di tipo flashare Piera Bot. Bravo, bravo. Porco. Eh, vabbè, se abbiamo Granata o C4, sì, eh. Non possiamo solo sparare. Erano i bastonicali, quelli rotti, vero? Sì. Guardarmi a mettere di cibo in mano. Ma lo scudo è gigantesco, regà. È enorme, sì, ma è una porta. È un portellone della nave, regà. Ma poi lo tieni. Aspen serve da skin, serve da skin imediato. È una porta di un ascensore, se se mettiamo un 4 salimo. Si può poi metterti la palestra. Eh, beh, sì, ma la palestra ci sta, è abbastanza primitiva come arma. Eh, beh. Ah, beh, vero. Erebbe figo l'arco, però. Ma usuno dai colpi mili, giusto questo cosa? Eh, sì. Allora, la cosa è una, o ci buttiamo lontanissimi e ci chiamiamo subito un apelo tipo qua con questo sciagallo, potrebbe essere un'idea. Però poi dovremmo cercare di fare le bandiere. Indiamo sciagallo in tu bandiere? Yes, sir. ma non è male giocare in finger tipo dio sta ottenendo per me che ho provato l'altro cos'è qualche giorno fa mi stava venendo in crampi alle dita tipo spiego perché perché stiamo per chiamare vabbè chiamiamo le armi per sicurezza meglio assicuri quelle ce le lasciate i soldi ancora i soldi provare piastre e curva le piastre ma allora rega allora io lo scudo ce l'ho sono bloccato mi posso muovere io lo scudo ce l'ho l'obiettivo ora andrà a fare le le taglie se uno di noi forse è meglio che prende la macchina e va a fare va a prendere un elicottero lomba della santa una rubana l'elicottero siamo altre cose che possiamo prendere pure io mi sento sporchissimo non vedo questi cerchi gialli data nella vita hanno tirato una cassa veloce 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 preso 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 è veloce 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 merda dove ci sono loro ma magari pisciamola pisciamola porca troia scusate ho preso il pallone ha preso il pallone ha preso il pallone quando si viene qua l'affettiamo ragazzi è lì porto l'elicottero in safe sono sopra che vi mirano dovete poi salire da me non li vedo più eh ho aperto la mappa un altro punto sto guardando no 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 davanti qua davanti qua davanti qua ci incassiamo in posti storchi strani ci stanno qui in bunker ragazzi ci avremo giocare si è vero è vero è vero è vero bravo bell'idea eh raga qua per me questo è pure dentro sta casa qua non è male che poi si 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 ne prendiamo l'ultimo solo per vedere dov'è eh sì dobbiamo camperarci e faccia chatting andate sparano sopra la torre va bene va bene va bene fatto bene perché mi ha spuntato della gente salite qua di fianco e si potrebbero pusharci eh si li vedo si stanno guardando la torre preparatevi ragazzi ah si il gioculo se la porta non siete non state facendolo sto guardando quelli si pusha arriva uno pusha 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 di odio di odio di odio di odio di odio di odio mi ha proprio non ha fatto bene prima porca troia next level shit guarda la casa che ho pingato lascia elicottero sopra scendete 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 qua questa casa questa casa questa casa meglio questa cosa qua sì quell'altra è più in basso non mi mette le piastre ma in verità dovremmo stare tutti qua sull'altro lato lomba almeno non ci vedono sempre che c'è una finestra cazzo vedi fantasma dovevo mettere un serpentino mi tiro una granata a gas un entrato bro bro ammettato bro bro ammettato a metà a metà il primo fa un attacco e questo voglio ora poi dopo proprio una e tutti per mi l'angolo ragazze hanno lasciato c'è trofi aspetta questo si tira questo si tira ragazzi ma io gli ho tirato una stun c'è quasi stavano piangendo c'è la decilato io fumo canetta adesso guarda scrivi che sto fumo al cannone che è la partita la pistola no una pistola ma poi sentiti rumori di sottofondo che fastidio non ci avevo mai fatto casa sta roba comunque se ci fosse lasciato di prossimità immagina questi urlagli così mentre gli swarmi in mezzo alle mentre entrano loro che gianci la roba li prendi a botti bellissimo con la skin di king kong però te la vado a comprare dopo vabbè io rimango qua nell'angolo vado a prendere l'acqua ah sono tornato no cazzo si è tornato troppo presto aspetta 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 guarda guarda faccio il colpa di quelli che entrano in chat e che scrivono perché sei tornato su world on se dici che fa cagare perché sei tornato su world on se dici che fa cagare e vai via aspetta tiro fuori il banhammer noi ragazzi stiamo proprio a chillare con ta no regà non dobbiamo far casino perché se io ne curva no no curva regà ascoltate ascoltate una cosa io capisco che siete iperattivi però voi immaginate ora uno che sta giocando ok che potremmo essere noi fermo curva un secondo ascoltami dopo fai ste cazzate tu immagina il tipo ok il tipo arriva arriva in da dentro la stazione venite venite qua è safe qua è safe non vi preoccupate siamo noi ma fai una moltiplicazione ma fai una moltiplicazione bro aspetta mi fai contare ormai mi ho mi fatto salire mi doverete levare oh mi conti lato per lato quello all'angolo si conta in tutti e due i casi ti levi che si certo 9 per 9 9 per 9 81 e allora ma 32 lato destro 32 come 32 ma tu sei una scena ma fai di me contare queste per terra si ci metto un attimo big chilling con tarango cioè che vedevo di raga scusatemi una cosa ma perché c'è così tanta gente alive Lomba 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 se ti metti davanti a me tu stai cucciato io sto in piedi così posso dirarti io posso tirare le stun Vieni da me indietro a destra bomba ok ok io la tiro sulla nuca lo dovresti sentire Spalano sopra macchina macchina arrivo preparatemi Questi incano qua questi incano qua oh oh nada sono loro stanno tirando nade a qualcuno è una flash quello cazzo pure le flash soledaria No i compagni no E beh sti cazzi li portate per voi la dire in mezzo capiscono un cazzo Lomba fai un passo indietro Sono fuori Sono andato fuori Uno one shot su di me merda mi ha ucciso C'è uno subito curva e cura di curva e via ti puscio uno Mi merda No No C'è un direi che bastardo questo coso tirà Regas potete capire che direi Regas potete capire che direi braveri terza personale con la scanzata dietro la coda e gambe chiedevi le armi lì mettetevi le armi lì che li scegliamo comunque a me basso i cali non gli ho fatto un cazzo si verrà il problema di quell'arma di merda